Eccoci, eccoci qua ragazzi, Edicola Bonelli, c'è parecchia robetta eh, parecchia robetta perché c'è roba che ho già comprato mesi scorsi però tipo ho letto sto mese, tipo Tex Wheeler Extra, tipo Sottosopra e quindi insomma ci abbiamo da parlare, andiamo prima agli acquisti, allora gli ultimi acquisti che ho fatto proprio ieri sono, e infatti non sono riuscito neanche a leggere, Tex Wheeler, la regina del fiume, del buon Boselli Roberto De Angelis, ragazzi, Roberto De Angelis a me, io sono innamorato, cioè veramente un grande, io spero che un giorno a Bonelli lo porterà a Lucca e io ci sarò per farmi fare uno sketch perché è troppo troppo forte, Bresimo lo ha amato su Nathan Ever e continua ad amarlo su Tex Wheeler, ce l'ha rubato il buon Bose però vabbè. Non so com'è la storia però continua sicuramente anche nel prossimo numero, Fiamme nelle tenebre e vediamo insomma, ne parleremo sicuramente il prossimo mese, il prossimo edicolo a Bonelli. Poi, poi, poi ecco qua, devo fare ammenda perché avevo detto che non l'avrei preso e alla fine l'ho preso, ma perché l'ho preso? Allora, sto sincero, io di solito ho una parola sola, di solito non so uno che è un quacquara qua, come si dice, però devo dire che mi aveva ammosciato veramente i coglioni quando l'ho visto, e non perché non è un inedito, io quella storia non è che ci bato tanto, cioè io vado più al discorso della serie, tra virgolette, Tex alla francese, quindi per me è un Tex che deve essere disegnato in un certo modo, con colorazione in un certo modo, una griglia in un certo modo, vedi Yellow Bird di The Bon Gomez. Quindi non è tanto la storia che non è inedita quanto era che praticamente dalle pagine sembrava molto peggio, e sembrava un Tex classic, si chiamano così, quei Tex vecchi ricolorati, quelle camice gialle, di quel giallo dei Tex, o brobiose. E ho detto, non lo prendo, adesso non è che io devo fare tutta la collezione, adesso ho deciso, dopo l'ultimo anno che non mi è piaciuto, quello dei civitelli, mi sembrava il correrino dei piccoli, ho deciso di prendere solo quelli che graficamente mi dicono qualcosa, a parte se non c'è una storia proprio che dico, oddio mio, ma alla fine su queste poche pagine, le storie, non è che so, poi questi gran capolavori finché saranno sempre one shot. E comunque ho deciso di non prenderlo, sono andato in edicola, prende questo, l'ho sfogliato, e devo dire che sia le tavole, ma che soprattutto, che doti come fa i cavalli lui, ma soprattutto la colorazione, alla fine poi non è così male, è una colorazione vecchi, sì, diciamo che vuole un po' andare sul vecchio, perché il disegno è quello che è, però è fatta bene secondo me, e quindi è una bella atmosfera, e quindi visto che poi comunque la storia trattava di dinamite, ho deciso di prenderlo, adesso la storia non so com'è, vedo che il buon boss, come sempre, ci ha dato giù di chiacchiere, però dai, so curioso di leggerlo, ecco, però alla fine sul sito rendeva molto peggio di quello che secondo me è dal vivo, e quindi non l'ho ancora letto, ma il prossimo mese ne parleremo. Poi abbiamo il Natanever numero 400, eccolo qua, tutto a colori, devo dire che qua abbiamo Medda e il buon Rosario Rao, che io sono contentissimo che è entrato nella scuderia di Natanever, vorrei vederlo più spesso. Allora, continuo a piacermi la nuova gente, il soggetto, un po', diciamo così, trito e ritrito, c'è un paio di collegamenti su altri albi, sembrerebbe che c'è quasi una specie dei continui per quanto riguarda questa cosa dei sogni, però tutto sommato l'alba non mi è dispiaciuto perché, allora, innanzitutto, mi piace lo psicologo, psichiatra, quando c'è lui, insomma, sono sempre molto contento, mi piace che c'è questo discorso dei sogni di Natan, che c'è anche l'ex, insomma, per quanto sia soggetto molto già visto e rivisto, casa farmaceutica, multinazionale e quant'altro, però lo svolgimento e l'introduzione di alcuni personaggi e la caratterizzazione anche di altri personaggi secondari, tipo l'ozio del ragazzo, l'ozio del ragazzo, le due ragazze cattive, diciamo così, ci sono dei co-protagonisti, chiamiamoli così, che sono, insomma, sono fatti bene, secondo me, i disegni di Rao sono strepitosi, colorato molto molto bene da Daniele Rudoni e Elisa Sguanci, che non conosco, devo dire che per essere un 400, insomma, ci sta, diciamo che non è, non è che ci hanno abituato a grossi numeri celebrativi di super capolavori, secondo me erano sempre delle buone storie, alcune più, alcune meno, però sempre, insomma, sulla, boh, sul 6 e mezzo, 7, ecco, mi viene da D, non è che c'erano albi da 10, e quindi, insomma, fa sempre il suo lavoro, come sempre, alla fine a me mi è piaciuto, mi sta piacendo sempre di più la nuova, la nuova arrivata, qui non si snocciola niente per quanto riguarda il suo, il suo passato, però succederà, qui poi abbiamo il 401, che è un omaggio a Stiaia di Morbius, e come si dice, il 401 per sembra che si prepara, sì, non perdete il prologo al team up tra Natan e per Martin Mister, questo a ottobre, e poi questo ci sarà a novembre, i primi due capitoli della saga Martin Mister 417 e Natan never 402, questa stiamo aspettando tutti con super ansia, non so se io forse andrò a Luca, non so, se riuscirò a andarci, se riuscirò a andarci, sicuramente, io farò un saluto a Barone se l'incontro, gli dirò, insomma, questo team up, questo uscirà, è a novembre, esce dopo Luca, perché Luca è ai primi di novembre, fino a ottobre, quindi non so se uscirà già Luca, su qualche variant o qualcosa, oppure uscirà in edicola normalmente, Luca uscirà solo il team up, Martin Mister è legato, non so se al Ministero dell'Ambiente o all'Agenzia Spaziale, se non mi ricordo, però, tutto sommato, tutto sommato mi è piaciuto, tutto sommato mi è piaciuto, mi è piaciuto Rao come ha fatto, come ha fatto Nathan, l'ex non è lei, sono sincero, quando vedo, quando vedo l'ex non è lei, cioè, Nathan è lui e l'ex però non è lei, quindi dirà, miglioriamo, miglioriamo perché l'ex è da fare, Sigmund, beh, Sigmund ci sta, ci sta, però l'ex deve migliorare, deve migliorare, e via, poi, Drago Nero, il Divoratore, numero 23, Mondo Scuro, ecco qua, abbiamo Vietti e Porcaro, la copertina sempre Paglialani, bello, bello, ho apprezzato le tematiche, un po', diciamo così, mette un po' di malinconia, empatizzi molto col personaggio di Jan, tutto quello che gli è successo, alcune scene sono ben un po' forti emotivamente, pensare che potessero capitare a noi veramente, qualche pagina, o qualche duello, o qualche battaglia, a volte bisognava starci molto, molto attenti, perché non è che si capiscono proprio benissimo, benissimo, perché questo stile di Porcaro è molto bello, però è anche molto, eh, molto particolare, sono sincero, però tutto sommato, adesso vi faccio vedere se lo trovo, tutto sommato, eh, tipo, si dava un po' così, però tutto sommato è un, ehm, un albo che mi è piaciuto, mi è piaciuto soprattutto all'inizio, tutto, tutta la, ehm, tutta la, ehm, la chiacchierata tra Jan e Oshofer, ehm, bellissima, bello, comunque, come sempre, poi sotto sopra il numero 3, eccolo qui, eh, preso, letto, eh, letto proprio giusto giusto stamattina, adesso vi faccio vedere proprio il 3, perché non vorrei fare spoiler, però comunque ho letto anche l'1 e il 2, quelli avevo già letti sto mese, perché, ho detto tanto, poi esce 3 a fine mese, quindi, ehm, me li leggo, intanto, mi metto, mi metto qua, i disegni di Grosa, sempre, sempre molto belli, serie di Enoch, colori di, eh, Francescutto e Alessandra Baccaglini, allora, serie che, come sapete, era uscita in cartonato, poi riproposta nel formato Audace, eh, qui siamo praticamente a un certo punto, ehm, sembrerebbe una città tipo New York, in un certo punto, ehm, si va tutti a testa in giù, si inverte la gravità, tutto quello che è, ehm, diciamo così, biologico, quindi, eh, tipo acqua, animali, persone, piante, tende a andare verso, a cadere verso il basso, che sarebbe praticamente, eh, verso l'alto, quindi, quindi, a, a, andare verso lo spazio, e, ehm, ci si arrabbatta come si può i superstiti, c'è un, tipo, una setta, che come sempre dice che è giudizio universale, ehm, sembrerebbe che alcune fazioni dell'esercito sono sopravvissute, e poi sono questi due ragazzi, ehm, e si narra, diciamo, le vicende loro. Allora, carino, sapevo già che non era un capolavoro, per quanto riguarda i disegni, i colori, eh, un capolavoro assoluto, ehm, la storia è carina, non so contento di non averlo preso incartonato, ehm, devo dire che la fine, è un po', lascia un po', ma quella è una particola di Enoch, perché a me anche Lilith mi ha lasciato un po', qualcosa di insospeso, e devo dire che anche qui lascia qualcosa di insospeso, perché si capisce, ma non si capisce. Non che sia un finale aperto, cioè un finale che finisce, però è un po', non si capisce, cioè, non si capisce bene quello che è successo fino in fondo, e chi è, chi è cosa, chi è chi, un po', cioè, perlomeno io non l'ho capito. Visto che anche Lilith mi ha lasciato con quel sentore così, allora credo che è proprio, non so, un feeling che ho io con i finali di Enoch, e spero non sia così per il Dragonero quando finirà, se finirà. Carino, l'unica cosa che non mi è piaciuta è che a volte è un po', pensavo, cioè, tipo The Walking Dead, tutti i medesimi quando loro fanno certe cose, tu pensi, ah, magari anch'io in quell'occasione avrei fatto così, eh, cioè, si vede che ha pensato, secondo me è un po' più a livello maturo, per certi versi, è molto molto plausibile, tutto quello che succede, quasi tutto, chiaramente se uno pensa che vengono i zombie, tutto quanto. Invece qui due o tre cose le ho trovate non molto plausibili, tipo quella, soprattutto è che praticamente loro, ehm, lei è un po' più sgiamata di lui, lui è un fessacchiotto, poi lei riesce, diciamo così, entrano in contatto, e poi dopo riescono a andare, lei lo aiuta, vanno a casa sua vecchia, per vedere che ha fino affatto la famiglia, perché lui quando si è tutto capovolta era in macchina col papà, il papà è morto, adesso poi si scopre subito, e praticamente lui va a casa sua e trova, insomma, tutto distrutto, eh, qualche vicini, altre persone morte, eh, di qua, di là, un fratello sparito, madre sparita, e poi tornano, eh, cioè io immagino se non fosse successo a me, una cosa del genere, poi tornano a casa, sarei disperato, poi tornano a casa e lei, insomma, e poi lei dice dai, trombiamo, sia così come se niente fosse, quello l'ho visto un po', un po' troppo non verosimile, non mi ha fatto un pazzito, comunque la sera è carina, sì, anche i disegni non so male, se volete godere dei, cioè non so male, sono spettacolari i disegni, se volete godere dei disegni, dei bellissimi disegni, se la trovate nell'usata, come spesso io dico sempre, accaparatela, il cartonato secondo me non serve, perché si vede bene, c'è formato audace, è bellissimo, è bellissimo perché io non so come succede, però, chi mi dice, ah vabbè, ma la Cosmo, ma la Cosmo stringe, stringe i cartonati alla francese, quindi il lettering è piccolo, e qua, questo è nato su un cartonato grande, un cartonato quello formato Bonelli grande, e perché allora qua il lettering è grande, e perché i balloni non so stretti, perché non è scritto piccolissimo, domanda, chi lo sa, me lo dica insomma nei commenti, ecco, questo è il lettering che io amo, ok, la grandezza che io amo, credo che magari, purtroppo, per quanto riguarda i francesi, devono schiacciarlo un po' troppo, perché, perché sennò in vignette tipo così piccole, come queste, se c'è un ballon così grande, andrebbe a coprire probabilmente metà vignette, allora, visto che i francesi hanno questa tendenza a fare anche loro queste strisce strette o quadrati dentro due vignette più grandi, allora lì, magari il ballon sarebbe un po' un casino, non lo so, però io apprezzo molto, molto il formato Audace, a 4,90 colorato, tanta tanta roba, miniserie, riproposte, da Dio, da Dio veramente, veramente tanta roba, veramente, veramente tanta roba, però secondo me dovrebbero, so che è un po' difficile, però dovrebbero far sapere al lettore, se prima o poi, tipo che ne so, se prima o poi tu una cosa la ristamperai, tipo ecco, Mister Evidence, io vorrei tanto leggerlo, però è incartonato, non si sa bene quando finisce, come c'è una spesa, se io avessi la certezza matematica che poi domani verrà ristampato in Audace, io aspetto tranquillamente, se invece Abbonelli dice, guarda, questa è una di quelle serie che non stamperemo mai, allora io magari mi muovo, vedo se riesco a trovare l'anello usato e tutto quanto per cercare un'offerta che mi interessa, però lasciare sempre in questo limbo, solo perché poi vende qualche cartonato in più, non so tanto d'accordo, ecco, però grandissimo formato, bello, 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 poi ecco il numero 3 del Tex Wheeler Extra, eccolo qui, preso e letto, quando l'ho preso mi sono letto tutti e tre, questo preso perché c'è, questa è già uscita, copertina di carnevale stupende, ma preso non tanto per la storia dei Boselli, quanto per i disegni di Mastantuono che a me piace veramente, veramente tanto, e devo dire che l'ho trovato invece, a dispetto anche qua dei balloon, insomma, spesso si chiacchiera un po' troppo, però l'ho trovata una bella storia, una bella storia, mi ha tenuto incollato, comunque scorreva bene, anche se c'era a volte un po' troppo parlato, ma poi neanche più di tanto alla fine, cioè non era proprio tutto ecco così, però a volte ci sono anche delle belle sparatorie, scazzottate, dove insomma non parlano, per fortuna, bello il soggetto, belli personaggi, a me alla fine mi piace tantissimo, ok Tex, ok se c'è Kit, ok se c'è Tiger Jack, tutto quello che volete, ma come in Nathan Never, come a volte in Dragonero, quello che fa bella una storia, oltre il soggetto, interessante, sono i personaggi che i nostri eroi incontrano durante l'avventura, durante la storia, durante il cammino, sia i cattivi che i buoni, perché tu puoi fare uno sceriffo che si vede in 5 tavole, totalmente anonimo, che tu dopo 3 giorni che hai letto il fumetto, neanche ti ricordi che è mai esistito quello sceriffo in quella storia, o tu puoi fare uno sceriffo che invece che in 5 tavole magari si vede in 10, ma che parla, ma che c'ha una forte personalità, e che quindi anche se non è poi così cardine nella storia, però è caratterizzato bene, c'ha uno spessore, per quel po' che si vede c'ha uno spessore, e quando succede quello a me le storie mi piacciono molto, ma molto di più, perché le nostre eroe ci piacciono, Tex Will è sempre Tex Will, Kit è sempre Kit, però quando poi incontrano uno sceriffo, piuttosto che un capitano di cavalleria, di spessore, è tutta un'altra cosa secondo me, anche il nemico qui, i nemici erano fighi, i membri della banda erano fighi, e quindi veramente è una storia bella, piacevole, che appunto, come dico, mi ha tenuto incollato, e l'ho apprezzata veramente molto, Boselli quando fa queste storie, soprattutto quando carica di spessore anche tutti i personaggi che contornano la storia, che sarebbero solo, diciamo così, delle comparsie, a me piace veramente, veramente tanto, so contenta di averla letta, ve la consiglio molto, a fine ne so, 3,9, 9, so 4, so 12 euro scarsi, non so, magari, forse era uscita magari, non so, in qualche maxi, o forse era uscita in, so, quante so, poi dopo c'è tutta insomma la storia dei barbieri, molto molto bella, c'è una storia, un editoriale, chiamiamolo così, sulla guerra di indipendenza, che qua si parla comunque della guerra di indipendenza, di bande, di bande, diciamo così, un po' fuori i ranghi ordinari, che una parte fedele ai stati del sud, una parte fedele ai stati del nord, ma che comunque entrambi hanno un po' fatto, usciti fuori dalle regole, quelle di ingaggio tradizionale dell'esercito, quindi si sono un po' macchiati sotto la scusa del patriottismo di entrambi i parti, si sono un po' macchiati di, insomma, di crimini, abusi sulla popolazione, magari anche sui prigionieri e tutto quanto, e appunto c'è un editoriale, non so se sono sul primo o su tutti, non mi ricordo, no, su ogni, sì, su ogni albo c'è due o tre paginette dove Luca Barbieri spiega insomma, un po' le cose storiche sulla guerra di secessione, sui personaggi generali, su Disney, tutto quanto, molto molto interessante, bella, non so questo appunto su escito, non so se vi conviene comprarli nuovi a 3,90, non so se vi conviene comprare, boh, sull'usato, i mercatini, i due albi della regolare, tipo un euro l'uno, con due euro c'è la storia, che non so dove è uscito in origine, sinceramente, però, però bella, 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 queste iniziative, queste iniziative meritano, io quando, non è che dico, io quando c'è qualche storia carina, me la prendo, questa ho, sinceramente, ho presa per i disegni, la storia non la conoscevo, ma non mi è piaciuta molto anche la storia, sono sincero, ragazzi, questo era quanto, io come sempre vi dico di proteggere i vostri fumetti, con le buste protettive, le migliori che ci sono in commercio, secondo me, che è MC Buste Protettive, non lo dico perché c'ho il codice sconto, c'ho il codice sconto perché le uso anche io e perché voglio farle che sa anche a voi, non ci guadagno niente, il codice sconto è IAIO85, comunque ho scritto tutto in descrizione, c'è del 10% di sconto, come sempre vi saluto, vi ringrazio, il videocollezione arriva, il videocollezione arriva, i 1500 è un casino, però arriva, scade, le roba in cantina, con una mano dovevo prendere i fumetti, con l'altra girare, ragazzi, un bordello, però ce l'ho fatta, e grazie per il supporto, perché comunque Dicola Bonelli è sempre uno dei video più visti ogni mese del canale, questo mi fa molto piacere, e niente, ciao a tutti, grazie, appuntamento al prossimo video, leggere Bonelli!